Biagio, che dire, un disco piuttosto particolare, è un disco che secondo me riprende anche i tuoi 14 precedenti perché in tutte queste tracce c'è un po' anche del Biagio passato. Hai ragione, hai beccato proprio in centro, hai centrato in pieno, si dice, quello che volevo racchiudere in questo disco. Sono 14 album e ogni album ha avuto una storia, ha avuto un suo percorso, accompagnato sempre da una tournée, quindi ha sempre vissuto tra la gente ogni album che ho fatto. In questo album mi ritrovo molto convivendo, mi fa stare bene, ritrovo il Biagio di Se io e se lei, ritrovo anche una parte di Biagio più sperimentale negli ultimi dischi, in Sapessi Dire No. Insomma, è come se fosse un best off, diciamo, di inediti, di quello che ho raccolto in questi anni di musica sperando di aver scelto la parte migliore, perché uno può anche sbagliarsi. C'è anche il Biagio di Liberatevi, per esempio, è già dal primo brano... Dal migliore. Sì, dal migliore già lo capiamo, anche se questo è un Biagio forse che ha più speranza rispetto a quello di 25 anni fa. Certo, perché 25 anni fa Biagio non sapeva quanto poteva fare questo lavoro e quanti dischi avrebbe fatto. Dopo quella grazia che arrivò su Liberatevi, che era già il mio terzo disco, era anche l'ultima mia possibilità, l'ultima mia chance, arrivato Liberatevi e ha cambiato un po' la mia vita. Ma ero sicuro che durasse molto meno tutto, no? Quando sono arrivato a 40 anni quasi, è uscito convivendo ed è ripartito ancora tutto. Quindi ho avuto sempre una carriera, grazie a Dio, con sempre una speranza verso il futuro, ma con una base sempre solida. La Dio che mancava, riprendi la canzone del 2000, anche il destino più fantasia di noi. Più fantasia di noi, bravo. Come mai questa scelta, anche di ritornare a parlare d'amore in questo modo? Perché secondo me noi parliamo d'amore sempre, il concetto dell'amore oggi è distorto che abbiamo. Oggi una canzone d'amore è una canzone dove per forza devi dire ti amo, no? Io non l'ho mai detto probabilmente, o non mi ricordo, nelle canzoni, però parlare d'amore, come diceva Centano, diceva io non so parlare d'amore, no? L'emozione non ha voce. E questa è una frase di Giulio Mogol meravigliosa, invece l'emozione ha voce, secondo me. E quando una persona si emoziona, racconta quello che vive e sente emozione da parte degli altri, una cosa meravigliosa che mi accade è quando prendo la chitarra in mano e canto una canzone e vedo la gente che si commuove. Per me questo vale 100 dischi d'oro, vale 100 tournee, vale tutto. Quando capisci che entri nell'anima di una persona e poi lasciare un segno. Tu hai parlato di Mi fai stare bene e obiettivamente dal punto di vista musicale io rivedo la stessa serenità. Bravissimo. È stato il primo disco che ho fatto da solo, dopo aver lavorato con Mauro Malavasi. In questo caso dopo i tre anni con Michele Canova, i due album con Michele Canova, ho fatto questo disco tra virgolette solo con questi produttori giovani che mi hanno aiutato. Cioè io ho preso da loro la loro energia, loro mi hanno restituito con la loro voglia di farsi notare. E quindi sono due album che arrivano da un passato e affrontano il futuro in una versione molto inedita. Particolari anche le collaborazioni, due collaborazioni estremamente diverse, ma due brani anche in questo caso piuttosto particolari e forse anche innovativi. Anche secondo me. Nel mio fratello c'è questo duetto con un siciliano, Mario Incudine, un'artista enorme, grandissimo, non conosciuto a livello nazional pop, se vuoi chiamarlo così, ma molto internazionale, che ha cantato con me facendo questo kuntu, che è questo rap siciliano molto stretto e molto forte. La Yang invece è un ragazzo giovane che fa trap, che è una musica che ascolto grazie ai miei figli, mi incuriosiva questa sfida, vedere se riuscivo a far combaciare la musica pop con un ragazzo che canta anche in francese, perché la sua madrelingua è quella, e vedere cosa usciva. Ecco, è usciuta una cosa molto curiosa. Se è nell'aria un pezzo molto interessante. Come lo è il mio fratello, come lo è il migliore, come lo è Annina, che chiude questo disco con questa grande periglia nei confronti di questa ragazza che è mancata, una mia amica che è mancata, e con questa testimonianza lascio il ricordo della sua immagine, perché mi interessa far ricordare Annina, non per il nome, ma per l'immagine che aveva, questa grazia. Salutiamo All Music Italia. All Music Italia, grazie per questo incontro, ce ne saranno altri, speriamo e vi auguro tanta buona musica. E grazie di cuore. Grazie.